Il 19 novembre torna a Montevarchi il Festival del Polo del Valdarno, giunto alla seconda edizione. Presso il Palazzo del Podestà ci sarà un convegno dedicato a questa speciale razza avicola, che non è più presidio slow food da alcuni anni, ma che ha necessità di essere mantenuta attraverso la ricerca di nuovi allevatori e alla conoscenza stessa del prodotto, da parte anche dei giovani, visto il coinvolgimento delle scuole, che su questa razza hanno effettuato un progetto specifico. In una prima fase i ragazzi del professionale hanno raccolto, praticamente facendo delle interviste ai nonni o comunque alle persone di una certa età del loro paese, hanno raccolto delle ricette tradizionali, antiche, ricette che rischiavano di andare perse, sia relative al Polo del Valdarno ma anche ad altri prodotti tipici. Successivamente le ricette sono state rielaborate dai ragazzi del professionale e tradotte anche in inglese, francese e tedesco. Nella seconda fase sono intervenuti i ragazzi del liceo artistico. Hanno elaborato delle illustrazioni da accompagnare alle ricette. Ne sono scaturiti dei lavori, quindi delle ricette illustrate, che saranno esposte questo sabato al secondo festival dell'Accademia del Pollo. Una razza che necessita di un allevamento lungo di mesi esclusivamente a terra. Pochi al momento sono gli allevatori, anche perché i costi per allevare il prodotto sono elevati. Nel convegno interverranno esperti del settore e istituzioni. L'Accademia di Giorgofili, il dirigente della regione toscana. Ci sarà poi anche un dottor Zanon che presenterà un libro sulle razze avicole italiane autoctone. Il dottor Stoppielli che farà decenni proprio dal livello veterinario sui polli. Quindi sarà praticamente un convegno che tenderà a fare un tutto tondo sempre a livello culturale su tutte le parti del pollo e soprattutto sul suo ruolo sociale. Questo festival che promuove non solo un prodotto tradizionale, ma la promozione passa anche attraverso le nuove generazioni che così hanno modo di scoprire le tradizioni e i prodotti proprio tipici del nostro territorio.